Poi comunque mi ha detto, eh mi devi stare dietro a me e quindi le live non ti servono. La C non fa niente, oh porca boia. È così. Eh ragazzi non sanno tutti che siamo volati in moto. Porca miseria, a parte che io sono l'autista, l'autista del gruppo, io faccio l'autista perché guido sempre io, quindi. È così, no? No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. La famia al volante, porca signora, me ne devo andare, da che lato? Zanini 98, 5 mesi. No, non è vero, non è vero, non è vero. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.